buongiorno a tutti è venuto oggi a trovarci a cuore amico monsignor chidane vescovo di keren che cuore amico aiuta con un progetto di sostegno a distanza all'orfanotrofio sant'agnese vorrei ringraziare prima del tutto per darmi questa occasione di trovarci qui al vostro ufficio e sono molto grato tante delle cose che voi fate a questa distanza questo aiuto a distanza per il nostro fanotrofio di sant'agnese in keren che siete uno dei migliori partner o collaboratori nel seno nel questo campo di sant'agnese in quest'anno questo sant'agnese ne abbiamo 25 ragazze da cui 22 sono quelle di età meno di 18 stiano siamo bene lì perché come questo aiuto la vita alloggio scuole formazione tutto stanno andando e questi orfani nostri lì si trovano in buona situazione grazie a voi grazie alla collaboratore grazie soprattutto i benefattori individui che danno questo aiuto per cui ci siamo in grado di tirare avanti i nostri servizi per questi orfani nostri e per questo io vi ringrazio di cuore e vi assicuro nelle nostre preghiere specialmente anche vorrei esprimere i ringraziamenti di questi bambini i loro vicini e famiglie e delle sore che agiscono nel lavoro lì nel nome delle parche hanno mio nome ringrazio molto tutto quanto che vi dio vi benedica visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396